Revolucionario training for amazing performance Come Giappone, Stati Uniti, due volte la Japan Cup, tre volte il Giro del Trentino Quindi un palmarès molto grande Oggi mi occupo di preparazione sportiva Ho deciso di portare tutta la mia esperienza da ciclista professionista nella preparazione Ho iniziato una importante collaborazione con Magnetic Days Insieme a loro sto sviluppando dei programmi di allenamento per i miei atleti In modo tale che loro possano migliorare sempre di più E ottenere il massimo da questi strumenti E riescono anche ad ottenere delle performance sempre migliori Con Magnetic Days riesco a seguire i miei atleti in maniera più costante, migliore e redditizia Quindi posso avere atleti molto allenati, poco allenati, magari anche di principianti E per ognuno di queste persone io, assieme a Magnetic Days Riusciamo a confezionare degli allenamenti fatti proprio su misura RIVOLUTIONARY TRAINING FOR AMAZING PERFORMANCE